Lotto, lotterie, sale scommesse e giochi a base ipica. I fanesi con oltre 10 milioni e 800 mila euro detengono un record per il 2017 non molto confortante. Infatti, secondo i dati raccolti dalla CISL di Fano negli ambiti territoriali 6 e 7, i residenti nella città della fortuna, sperando nella debendata di risollevare magari la propria situazione economica, sono coloro che spendono più soldi nel gioco d'azzardo con una media pro capite di 216 euro. Fonte ufficiale è il sito dell'Agenzia delle Dogane, analizzato in particolare dai ragazzi della Quarta D dell'Istituto Battisti, che grazie all'alternanza scuola-lavoro hanno esaminato i dati senza tener conto delle video lotterie e delle slot machine. La media più alta tra la densità di abitanti e la spesa pro capite riguarda però il comune di Fossombrone, dove è risultata una spesa pro capite di 251 euro per una spesa totale di quasi 2 milioni di euro. Agli ultimi posti, Fratterose e San Lorenzo in campo, insieme a Terre Roveresche e Colli al Metauro, che sono i comuni più giovani. La DEA è proprio bendata perché i giochi d'azzardo in ogni caso impoveriscono le persone e non garantiscono un reddito sicuro. Chiediamo ai sindaci, siccome si devono impegnare su nostra richiesta di elaborare dei regolamenti comuni in tutto il territorio per il contrasto al gioco d'azzardo, di con sollecitudine di impegnarsi per approvare questi regolamenti perché li vediamo un po' titubanti. La CISL questa mattina ha reso noti anche i dati sulla natalità e mortalità. A Fanno nel 2001 sono nate 505 persone a fronte di 559 decessi. Nel 2016 i nati sono stati 487, mentre 644 i decessi. Un calo drastico dunque con il picco negativo registrato nel 2015 con sole 447 nascite e 657 decessi con un saldo di meno 210. Altri dati annunciati in conferenza stampa sono stati quelli relativi all'IRPEF. La brutta notizia è che la maggioranza dei comuni ha l'aliquota massima allo 0,8. La bella notizia invece è che negli ultimi anni i redditi stanno crescendo. Nel 2016 ad esempio, ultimo dato disponibile, su un reddito totale di oltre 929 milioni alle casse comunali sono entrati oltre 7 milioni e 400 mila euro. L'unico comune che si è dichiarato disponibile a modificare l'IRPEF è il comune di Sant'Ippolito, che è uno dei comuni che ce l'ha allo 0,8. Gli altri comuni della Valle, della Valmetauro e Valcesano, non hanno dato alcuna disponibilità a modificare l'aliquota allo 0,8. I comuni che ce l'hanno già rimodulato invece hanno confermato l'applicazione dell'aliquota modulata per scaglioni. Sempre trasferimenti aggiuntivi che premiano le fusioni. Grazie.